Sulla regoletta del mondo della Gymkana, la Fiat 500, con il numero uno, con il numero uno, una garanzia, signore e signori, in tempo, uno, zero, uno, settanta, rimane, in questa storia di questa Gymkana, in pressa, nella memoria di tutti, con il numero uno sulle spalle, il nostro campione, team Silvercar Motorsport, donato argentiero, neanche il tempo di presentarlo, chi ha già terminato la prima parte del percorso ed è già in fase di rientro con un parziale, signore e signori, di 30, 5 secondi, semicerchio per lui, fase centrale di percorso, 3,60 veloce, esce dalla gabbia, freno che la mano si chiude, un applauso, in atto ai flash, donato argentiero, 59, 49, scende ancora una volta, batte il suo stesso